Buonasera a tutti, siamo qui a registrare questo video per partita di Mila in Torino il giorno prima per parlare di Mila in Torino. Avete visto tutto quello che è successo? Dico la partita, la partita lecce spalla. L'avete visto penso tutti quello che è successo? Chi era? Alba, Valeri. L'ha dato o non l'ha dato quel rigore? Non l'ha dato, uguale a prima, uguale a Mila Juventus su Calabria, quello era il rigore, quello di lecce spalla non lo era. Qua un po' mi fa inibasire questo fatto. Questo no, quello sì. E se ci sono i Juventini che commenti, i Juventini in questo video abbiano il coraggio di commentare e sanno le parole di quello non era il rigore, hai ragione. Comunque, parliamo di Mila in Torino. Mila, le due partite, belle, grande e belle tra il secondo tempo del derby. Il primo del derby avevamo un giro perfetto. Con l'avamo fatto la partita, buona pure, migliore, ma meritavamo pure la vittoria con l'avamo per me. Comunque, veniamo da queste tecniche, un po' buone e un po' non buone per il secondo tempo del derby. Il Mila può vincere, siamo in casa, siamo davanti, sicuramente altri 60.000 ci saranno ancora sicuro. Il Mila c'è che fa il risultato. Il Parma ha vinto, la Roma ha perso, però ha vinto l'Atalanta. Ora sta giocando in Napoli. Sto registrando dal telefonino i computer non c'erano qua per portare in mano, quindi non so come. Non posso vedere quello che sta facendo in Napoli. Manco ancora di andare prima di fare il video, scusa. Quindi, speriamo, comunque, con qualsiasi risultato a fare in Napoli, poi si dovresti perdere. Il Mila ha bisogno dei tre punti. Dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere, assolutamente. E speriamo che la beffa della partita contro la Juventus e la sconfitta dei derby non si penalica. Soprattutto essere beffato. Il Mila deve essere più cattivo e più arrabbiato dopo la beffa di Serie contro la Juventus. Speriamo in bene. Se dovremmo dovessi fare un pronostico, io direi uno per Mila. Per me il Mila vincerà domani. Io mi sento che vince. Spero di non sbagliarmi. Lo so, magari il giorno dopo, se non dovremmo vincere, tu dici, avete vinto. Però ho detto, mi prendo la mia risposta. Per me il Mila dovrebbe vincere. Speriamo sia così. Magari, anche se non dovessi essere così il risultato, mi prendere un po' di insulti, un po' di sfruttore come ne vogliamo chiamarli. Sarò qui a rispondere pure alle sfruttore. Il video finisce qua. Vi vedete a mettere un mi piace, condividete, commentate e fatemi sapere quello che pensate voi di Mila e Torino. Ovviamente cercate di commentare prima della partita il vostro pensiero. Ne bene ne male, forza mia. Vi invito comunque a seguire la pagina Facebook. Instagram è Milani Sapazzo, TikTok è Milani Sapazzo official. Iscrivetevi al canale di YouTube pure. Ne bene ne male, forza mia. Speriamo di vincere domani. Dai, dai.